Diversi piatti che noi proponiamo ogni giorno nel menù dove comunque mettiamo uno dei nostri prodotti che abbiamo nella dispensa come le salse di americo che proponiamo nei panini oppure usiamo anche se uno vuole prendere un caffè e mettere un buonissimo miele, abbiamo questi mieli thun che sono straordinari oppure anche usarli come composte in un piatto di formaggi. Questo è il mio mondo e spero che mi piaccia. Il progetto nasce nelle nostre teste tanti anni fa nel 2010 e da quella data, era ottobre 2010, me lo ricordo ancora, eravamo io e mia moglie in viaggio a New York, abbiamo iniziato a scrivere, 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 abbiamo scritto tutto, abbiamo scritto un prodotto che ci piaceva, un particolare che ci emozionava, addirittura un infisso che magari avremmo detto questo se avessimo mai un locale di questo tipo ci sarà questo infisso e da lì piano piano le idee, siamo andati a trovare tutti i produttori che qui vedete in vendita, li conosciamo personalmente, è una cernita lunghissima, tre anni in tutto e sempre un'idea chiara, tutto doveva nascere da una cucina centrale, che è esattamente questa qua. Il marchio Cucina.it ha il nome Cucina inserito all'interno di un rettangolo un po' smussato. Qual è la nostra cucina? All'esterno della cucina c'è tutto il resto, quindi c'è un bancone, perché per me è importantissimo che tutto venga messo all'esterno e quindi in un bancone. E poi c'è l'esposizione, quindi cucina, bancone per poter guardare tutto e l'esposizione. La cosa più bella per noi è che ognuno possa magari venire qui e portarsi uno dei prodotti nella propria cucina, oppure ancora meglio uno possa comprare uno dei prodotti che sono qui e consumarli in questa cucina, consumarli e godere della convivialità insieme a noi. Grazie.